Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. L'estate di Fedez si sta rivelando molto diversa dalle precedenti. Quest'anno, il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni, si sta godendo lunghe vacanze tra le mete più esclusive d'Europa. Tra una destinazione e l'altra, la sua base fissa è una lussuosa villa in Costa Smeralda, dove quasi ogni sera ospita amici e, soprattutto, nuove conoscenze per feste che fanno parlare tutta la Sardegna. Ma mentre Fedez si divertiva tra cene e DJ set privati, c'era un altro impegno che lo attendeva, questa volta al White Different Club di Corigliano, in Calabria. Il rapper avrebbe dovuto recuperare una data cancellata a luglio per problemi di salute. Tuttavia, proprio all'ultimo minuto, è arrivata la notizia che ha deluso centinaia di fan. Il DJ set è stato annullato. La motivazione ufficiale fornita dal club parlava di «motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell'artista», ma qualcosa non torna. Poche ore dopo l'annuncio dell'annullamento, infatti, sul profilo Instagram di Fedez sono apparse storie che documentano una festa in grande stile nella sua villa sarda. Piscina, musica, alcolici e una folla di persone, compresa la sua nuova fiamma, hanno fatto da cornice a un evento che sembra essere stato organizzato, ben prima della cancellazione del DJ set in Calabria. Guardando le immagini, risulta difficile credere che una festa di tale portata sia stata improvvisata all'ultimo minuto. Questo ha alimentato i dubbi tra i fan, che si chiedono se Fedez abbia mai avuto l'intenzione di rispettare l'impegno in Calabria. La delusione è evidente, soprattutto tra i giovani che avevano comprato il biglietto per l'evento, e ora si sentono traditi. Un utente ha scritto, aveva promesso di essere qui, ma poi lo vediamo festeggiare in Sardegna. Dove è la verità? Riflettete su questo comportamento, è giusto verso i fan? Lasciate un commento con la vostra opinione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie